Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Oggi sono qui di nuovo sui V con ovviamente una partita da giocare e in più una cosa da comprare Anzi tre pacchetti da comprare sul furiere perché è uscito un nuovo pacchetto Un nuovo pacchetto che comprende tre cose molto buone che a mio parere sono utili per una possibilità di giocare su un deathmatch Su un competitive eccetera Allora vabbè alcune cose sono una stronzata però non competitive scusatemi perché qua andate a scaricare delle armi epiche Però un accessorio arma epica, una nemetica epica, un'arma epica 150 a me diciamo che può piacere sta cosa Quindi andiamo subito a scaricare questi tre pacchetti Visto che ho 595 chiave in teoria posso fare tre acquisti Andiamo col primo vediamo cosa mi tira fuori Bellini 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 Il Lauger Fury è veramente una bomba Però aspettate forse è quello doppio perché se è quello doppio mamma mia è da nabbi in maniera assurda Comunque il primo bellino è il castoro molto carino Andiamo col secondo acquisto Mamma mia RVN blowout Questa è un'arma di merda Anzi è un'arma molto forte Però bisogna saperla usare Spara a due colpi E in teoria dovrebbe essere buona Per chi ovviamente piace questo genere di arma Quello spara a tre colpi, due colpi Come l'R3K A me non piacciono Andiamo col terzo pacchetto La katana masamune Armamento assassino Celerità Non lo so Allora ragazzi diciamo che come tre pacchetti non mi fate impazzire perché sono armi che alla fine non uso Forse giuste le cose sono belline Sono gli accessori Le mimetiche come potete vedere sono le classiche mimetiche che ovviamente non mi interessano Visto che andiamo a utilizzare delle mimetiche Guardate qua ragazzi Scegli ho tutti questi cazzo di fucili che mi fanno anche schifo Andiamo a toccare dei fucili che non uso Andiamo a vedere delle tipo spade Adesso proviamo questa stronzata dell'hour doppio Vediamo come cacchio possiamo giocare in quest'arma Poi andiamo a vedere la katana La katana epica ragazzi Ma perché ci sono queste stronzate Katana epica Ma cosa cambia Le uccisioni fanno i nemici a pezzi e non rivelano il punto in cui sono morti Leggermente aumentata Ma ci potrebbe provare Più di provare non è Facciamo il kurre samurai stavolta Quindi andiamo con Togliendoci questo Non lo so Possiamo togliere questo Herad Togliamo questo Herad E ci mettiamo la katana Che è qui Mettiamo la katana epica E andiamo a fare un round con la katana Eccoci ragazzi allora Siamo su SkyDoc Yep Andiamo di katana ragazzi Facciamo i samurai Eccoci qui Il kurre che fa il pezzo di merda Ci provo Andiamo il kurre ci provo a raggirare Wokkada Il kurre ci prova Il kurre ci prova con la katana Vai il giretto Wokkada Eh che falle sto volto Andiamo il kurre continua Il samurai Sceso dal Giappone Per fare il culo a tutti Il robot samurai Eccolo qui Il kurre Ancora Wokkada Wokkada Ce la fa ancora 4-2 Con la katana ragazzi Il kurre aspetta Aspetta l'avversario qui Wokkada 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 Ancora il kurre Un assassino Un assassino Un assassino La scissione Buocatò Buocatò Ancora il cure Con la catta Ecco cosa si prova a far incattare la gente Via 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 Corretta shock Ragazzi Cura un assassino Cura un assassino Buocatò Buocatò Eccoci qui ancora demolita Andiamo Di katana Il cure samurai Ci prova Ancora ancora il cure E lì Buocatò Li sto uccidendo Via 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 No Anche lui con la katana Il cure ci prova Buocatò E ce la fa Insegue il cure Con la sua katana cattiva Anche loro ci provano Merda Non ce l'ho fatta Andiamo 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 Mettono un sacco di torrette shock Il cure fa 12-5 Con la katana Ancora Buocatò E ce la fa Li sta tutti affettando il cure Li sta tutti affettando Via 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 Il cure si salva Ancora Buocatò Cosa 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 Non c'è altro da dire Non c'è altro da dire Non c'è altro da dire il cure Non c'è altro da dire No non c'è altro da dire Il cure sta scioltando tutti con la sua katana cattiva No Via Sì Sì Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo 17-5 17-5 Con la katana Il cure È un samurai nato E forse avrebbe fatto meglio giocare sempre a quello Tutti ancora Tostro Anzi 360 con la katana 360 con la katana Ragazzi Ratio Buonissimo Buonissimo Se avrei voluto fare la kill finale con la katana Invece niente Mamma mia ragazzi Che partita Che partita Non sono No Pensavo di essere Scusate Ah abbiamo perso È vero È vero Non sono in crescita Comunque ragazzi Stappiamo questa partita Andiamo subito con la seconda Giocheremo con l'hower Doppio A kiko Eccoci qui ragazzi Con un'altra partita Breakout Questa volta il cure userà quest'arma da nabi Dove cazzo L'hower fury Ovviamente come secondaria Sempre la katana ragazzi Mamma mia Ma guardate che armi Il cure si mette a utilizzare Che schifo Dopo questa mi dovrei vergognare Il cure se ne va Con la sua katana Eccola qui ancora La masamune Andiamo di nuovo con gli fury Via Dentro Ci va dentro Ci prova Aspetta l'avversario Non c'è l'avversario Mamma mia Questa arma Che cosa è Mamma mia Che cazzo è sta arma ragazzi Ma che cazzo fa Quest'arma ragazzi Non c'è niente da dire Arma esagera da sotto ogni punto di vista E poi ovviamente la distanza è un po' una merda Però ragazzi Si accumulano tutti Il cure continua Con la sua arma Con la sua armona Ancora eccoci qui Ma porco 2MC Devo usare la cazzo di arma da samurai Passi il cure Non capisco se l'avversario sia un compagno Non lo capisce se ne va Via Via subito Via 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 Granate il cure il cure 9-2 Con l'auger doppio Attacca queste cagate di arma Quante granatine Troverò un avversario qui? Non c'è nessuno Invece si eccolo lì Oh cosa gli fa in volo raga Mamma mia Non c'è niente da fare Non c'è niente da fare Il cure è indistruttibile E immordale Con le sue armi doppie da nabbo Ancora il cure Ci va Ci va Ci va Qui dentro Eccolo qui Lo trova E lo fa fuori Ancora il cure Mamma mia Non ce n'è per nessuno Non ce n'è per nessuno E poi mi tira un hit col proteus Vaffanculo Che lo usa come fucile a pompa No cecchino ragazzi Bravissimo Complimenti Comunque ragazzi I cecchini sono troppo lenti Ancora ancora il cure Con questi doppi auger Mamma mia l'ho visto Fatto fuori Cambio Via 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 Ancora parte Si aggrappa al muro Si aggrappa al muro Vedete se sono avversari Eccolo qui Mamma mia Spacca pareti Zio Spacca anche il culo Oltre le pareti Amor Cold 2 E' proprio ragione KBS Longbow Fortune Perché è fortunato Come non sa che cosa Ancora Andiamo Con questo doppio Eccolo qui Via 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 Eccure si salva ancora Grandissimo Via Andiamo Eccure 18-4 18-4 Io vi vorrei ricordare Che 18-4 Ho fatto con un'arma Del cazzo Un'arma senza Cesso Senza accessori Un'arma Tannabili Che favore Via E si attacca ancora al muro Il cure Se ne va Se ne va tranquillo Eh mamma mia Non c'è niente da fare Non c'è niente da fare E poi si stacca dal muro Cristo Dio Ovviamente era finito il boss Ovviamente non sono riuscito a rincollarmi Ancora il cure Ci prova Si avvicina Qualcuno che arriva in volata Eccolo qui Arriva in volata e muore Il cure ricarica Va avanti Va avanti Prova a sorprendere alle spalle Gli avversari Ci prova Ci prova E lo uccide uno Uno lo uccide E poi mi ammazza Il pezzo di merda da dietro Questo cazzo di KBS fortunato Andiamo Io ragazzi sto giocando senza una cuffia Quindi Cioè sto giocando apposta così Perché voglio sentire anche la mia voce E voglio sentire le strontate che dico Bene Ora Pure ci prova Va passata a largo questa volta Non trova nessun avversario E non trova nessuno Andiamo avanti Cosa gli ha fatto Via Non c'è niente da fare Non c'è niente da fare ragazzi Ma muori Oh Ma perché c'ho sempre gente dietro Bello Spollega e controlla da solo Perché c'ho sempre gente dietro Cazzo Via Fuori dai coglioni Stronzo Stronzo Ma muori Via 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 Cioè ragazzi sto facendo 29.8 I miei compagni 8.17 Ma mammi Perché il controller si stacca Sta agitando troppo anche il controller Che vergogna Che vergogna ragazzi Io mi vergognerei Cioè non mi sto vergognando di usare questa Però ragazzi io mi vergognerei anche nei miei compagni a fare questi risultati Madonna Cioè che schifo Dai levati da che cazzo Porco 2 Oh Mamma mia Mamma mia Mamma mia Zio Corre Mamma mia No 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 32.9 Ragazzi 32.9 E non c'è niente da dire Il curre è imbattibile Con queste doppie armi dannate Mamma mia Adesso col fucile a pompa Anche Non bastavo io un nabbo Anche quelli col fucile a pompa Andiamo avanti Si aggrappa ai muri Attacca la cosa La La Mina a Criollo Via No Cliccatore Rewind Ma vai a fare il culo Nabbo di merda Tu con quella cazzo di proto O sei anche con la merda di Di karma Madonna Fai schifo Ora siamo passati in vantaggio Finalmente siamo passati in vantaggio I miei compagni sono svegliati poco a poco Andiamo avanti Vedo una grande opportunità il curre Mi fare punti qui Mi fare punti Un po' ce li ho tutti dietro Cristo Dio Ma cosa ho fatto di male per meditarmi questo Cosa ho fatto di male Andiamo avanti 38-12 Il curre continua a martellare Via Se ne va Via Il curre se ne va Via Ma vaffanculo Ma perché ci blocchiamo lì in mezzo No Correntissimi Quando sei qui Dici che è tristezzo Dai ragazzi Dai che ce la facciamo recuperare Anche se abbiamo una squadra di merda Ce la faremo Dai Su Su Il curre Pareggio Di nuovo in avanti Di avversario Fuore Uno Il nemico ha lanciato Un uovi di disturbo E perdiamo Perdiamo Perché la nostra squadra Fa schifo 42-13 19-25 14-7 10-26 8-15 E 4-16 Che squadra di merda Ragazzi Poverino quello MH1 1994 Perché è stato l'unico bravo Che è riuscito a seguire Poco poco I miei ritmi Poco poco ragazzi Perché io non ho fatto il 42 Lui ne ha fatto il 14 C'è da dire anche questo E niente ragazzi Spero che anche questa valida Vi sia piaciuta Spero che il mio essere samurai Che il mio essere Il nabbo di merda Col doppio Col doppio Auver A Kimbo Vi sia piaciuto E spero quindi che il video Vi sia piaciuto Come al solito Vi invito a iscrivervi Commentare Mettere mi piace Se ovviamente l'avete apprezzato Avete visto che nei pacchetti A 150 Non si trova un cazzo E nada Ci vediamo O lunedì O martedì Bella ragazzi